Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazzin Gazzetto Tutto in stealth Ogni altra sera mi ha detto da qui al 30 Che farà delle live serali tardi barra notturne su The Bending of Isaac Rebirth Semplicemente per il fatto non me l'ha detto ma immagino Perché vuole cercare di diventare Platinum God prima di Afterbirth Questo era il suo obiettivo quindi farà delle live apposta per questo Quindi non lo so non mi ha detto l'ora precisa ma immagino per le 11, 11 e un quarto inizierà Comunque andate prima sulla live di Edo E probabilmente lì dopo un po' Mac dirà E la mia live comincia a quest'ora Quando finirà probabilmente quella di Edo Quindi ragazzi andatela a vedere E ci vediamo a brevissimo per nuovi video Ciao